Ma se la mamma è cupata, posso mangiare tantissimi doncetti. E il cioccolato che ne usa la mamma per fare le torte, tantissimo cioccolato! Mi sa che ho mangiato troppo dolce. La 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 la, io mi sono stufata, anch'io. Ragazzi, mi sono stufata anch'io. La mia sorella è andata a scuola, ma io invece no. Sono un po' affreddata, perché sono andata in montagna. Uffa! Mamma! Mamma! Vieni a giocare con me un po'. Mamma! Sì, Erika, arrivo fra poco. Finisco di scrivere qua una cosa e dopo arrivo anch'io. Va bene. Gioco un pochino da sola. Dai che fra poco dobbiamo andare a fare la spesa. Va bene, gioco da sola. Come sempre. Questa è la mia bambola, quella è la bambola di Vanessa. Questa è la carrozzina che quando era in ospedale, che proprio me l'ha comprata. Pronto! C'è una cosa dura qui. Il mio giocatore preferito! Guardate che bello! Ciao piccolino! Andiamo a giocare insieme. Ti metto qua nella borsetta a riposarti e dopo andiamo a giocare. Buonanotte! Buonanotte! Ho queste pinte, chi le darò, lo darò a suo Dio, che lo tiene un anno intero. Csht. Il gigante. Ecco. Metto gli antepeluschi. Chi è questo che mi ha dato Babbo Natale? Oh, ci muovono due giocattoli. Questi sono questi. Ecco, chiamala mamma di nuovo. Mamma! 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 Quando vieni? Erika, ce l'ho ancora un pochino. Tra poco arrivo. Intanto puoi disegnare qualcosa. Pazienza. Questa cosa è molto importante, devo finirla. Uffa, mi sono sbagliata di nuovo. Uffa, ha detto che finisce una ora fa. Vabbè, io mi riposo un attimo. Mi è venuta un'idea! Ma, ma se la mamma è cupata, posso mangiare tantissimi doncetti. Ma, uffa che lei mi dà solo un dolcetto, ma io voglio prendere tantissimi doncetti. Mi sa che mi ha sentito. Mi sa che mi ha sentito. Mi sa che ha scoppi. Ma, ma, uffa che io vi faccio. E adesso mi ha sentito un pochino. Qui ci sono pieno di cioccolatini. Oh, uffa. Uffa! 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 Le pezze gommose! Ci sono! Il cioccolato che usa la mamma per fare le torte! Tantissimo cioccolato! Guardate! Oh che odore! Li voglio mandare tutti! E basta! Prima il cioccolato! Che buono! Il cioccolato è già aperto! Questo non lo vado! Wow! Che tante! Questa è una cromela gommosa! Prendo! Questa! Si dai! Il scheletro prendo! È il mio preferito scheletro! Guarda che sarà buonissima! Wow! Oggi mangerò quanti dolcetti voglio io! Mamma ho mangiato 5 cioccolatini! Mangiamo pure! Wow! Mi sa che sarà buono! Mh! Ma non sento più niente! Di sicuro sta combinando qualcosa! Erika! Cosa stai facendo? Niente! Sta giocando! Va bene! Va bene! Guarda! C'erano 5 minuti e finisco! Arrivo subito! Va bene? Sì! Ok! Adesso vogliamo già un biscotto! Come si apre! Ecco da questa parte! Ecco! L'ultimo biscottino! Sì! Cosa stai facendo! Cosa stai facendo? No! Non! È buono? Non! Mòi un dente! anche la pancia che male mi so che ho mangiato troppo dolce vado un ultimo sul letto mamma sentola erica ma cos'è successo erica erica cos'hai cos'è successo erica cos'hai cos'hai ti fa male ma come mai hai mangiato qualcosa cos'hai cos'hai dimmi perché si viene da comitare erica stai qua tranquilla arrivo subito vado a portarti un vaso qualcosa stai tranquilla ok cos'è questo ma cosa sono queste tutte queste caramele nooo erica non mi dire che hai mangiato tutte queste caramelle ma guarda quante caramelle non ho detto solo una ma cosa sono tutte quelle caramelle lì sul vostro tavolino per favore non mi dire che ti sei mangiata tutte quelle caramelle non mi dire che ti fa male la pancia perché hai mangiato tutte quelle caramelle cos'è successo cos'hai fatto erica cos'hai fatto come due caramelle come due come una ho visto tanta carta lì come ho capito che hai trovato anche il cioccolato quel cioccolato era per fare le torte non per mangiarle tu ehi mamma mia erica ma sei diventata bianchissima vediamo ma sei caldissima vado a prendere il telefono chiamo subito la dottoressa stai qua ferma ok tranquilla erica adesso sto chiamando la dottoressa c'è bisogna non mangiare così tanti dolci mamma mia stai scottando erica pronto buongiorno scusate il disturbo dottoressa abbiamo un'emergenza sono la mamma di erica ha fatto un'ingestione di dolci si sta male mi dice che le fa male di pancia è tutta bianca è molto molto calda si no non sta molto bene mi dice che vuole vomitare si si vi ringrazio arriviamo arriviamo subito dottoressa grazie molto molto gentile arriviamo bisogna andare subito dalla dottoressa devi fare una visita oh no mamma mia erica ma quante volte ti dico di non mangiare così tanti dolci come mai sei ti è venuto in mente sono due come due ma ho visto tutte quelle carte sono 10 30 cioccolati stai qua vado a portarti la giacca ok stai qua vuoi vomitare ancora no no è passato vedrai che ti sentirai meglio e voi ragazzi dovete ascoltare sempre i vostri genitori e non dovete mangiare così tanti dolci caramele cioccolatini perché vedete cosa è successo a erica le fa male la pancina poverino mi raccomando sempre fare bravi bimbi arrivo subito erica ti porto subito la giacca ok eccoci qua dai vieni alzati dai moriti prenderò in braccio vieni 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 ciao ragazzi eh si ragazzi bisogna chiudere questo video vi faremo sentire vi faremo sapere cosa ha detto la dottoressa se erica sta bene e niente non dimenticate di iscrivervi al nostro canale attivate la campanella e lasciate tantissimi like ciao a new place a new home for a while let me feel alive nothing to hold me back take my time just enjoy the ride